il passaggio che riusciamo a fare sul recupero palla è fondamentale persa palla tutti bene dietro ci stringiamo male che guarda lo stampo piano 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 viene a fare il quinto e allora lì quando vedi che c'è lo stampo davidino tac ti accorce il centro marcature è sempre un uomo che fa gol che la tira di testa in aria si marca con la postura giusta uomo e palla marcatura attenta e così sempre di qua e di qua non come nè sta figa che lui marca così che la colonna di favore gli fa postura giusta sul costo uomo e palla e porta non così se no questo mi passano amanti cerchiamo di dargliela a luca e a oro oro va bene ok stai vicino ogni anno abbiamo avuto due tre palle per andare anche al tiro proviamo a calzare prendiamogli la pena al portiere proviamo a calzare punta storta quello che è l'arbitro ci sta più tutelando l'arbitro ci sta più tutelando perché non abbiamo meno i coglioni non abbiamo fatto i bruffoni per cui lì palla è mezza e mezza mi giro e rispetto al fallo ok vede punizione e fare inattive bene però non a caso palloni dentro precisi e più possibile semplici era bella per l'idea ma è molto difficile è molto difficile sta 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 e io sto andando poi mi sono fermato tutto da lì dentro non dobbiamo calare attenzione e noi ci saranno è anche noi e noi ci saranno stagionstanding saying like chi